Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mau, oggi sono qui ragazzi per un nuovo video sulle sfide della skin Sky e della gente Sky per quando lo sbloccheremo Allora ragazzi, questa sfida semplicissima ci dice, nasconditi in un cartone insidioso nella fabbrica di scatoli Semplicissima ragazzi, ecco voi qui la fabbrica, basterà semplicemente entrare in qualche scatola, anche solo una, non so quante ne devo raccontare ma penso una Voi ragazzi, guardate, fate così ad esempio, entrate, siamo all'interno della fabbrica, siete entrati in una scatola, missione completata Ragazzi anche se trovate qualche scatola da terra, se non sbaglio potete usare anche quella, ma comunque si deve trovare sempre all'interno di questa fabbrica Voi potete vedere ci sono tantissimi scatoloni, è normale che quando la sfida uscirà ci saranno appunto tante persone Quindi o vi consiglio di farli rissasquadre tranquillamente, oppure anche in una singola, tanto è piena di scatole Vi faccio vedere precisamente dove si trova nella mappa, guardate un po' in basso a destra, tra Lago Languido e Corso Commercio, precisamente qua Guardate ragazzi, togliamo lo zoom, adesso piano piano mettiamo lo zoom verso destra, eccolo qua giù ragazzi Comunque ragazzi è vicino anche al Ponte Giallo, Lago Languido, Corso Commercio, basta che seguite anche sta stradina qua di Corso Commercio Vi porta precisamente qui La missione è veramente semplice, è entrato in questa scatola all'interno di questo magazzino e la missione è conclusa Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale per appunto portare altri contenuti nel genere ragazzi Perché così ve ne porterò ancora di più Ragazzi arriviamo ai 3000 iscritti, seguitemi su Instagram e noi ci perchiamo in un prossimo video Bella Ciao